Arrivare ai 100 giorni con una legge del 416 terra che sia attualmente depositata, che sia attuata, che sia una legge vera e propria. L'abbiamo detto a Don Ciotti il 7 maggio quando è venuto qui al Senato a ricordarci dei 100 giorni, dei braccialetti bianchi che sono stati la campagna elettorale di molti politici. Molti non l'hanno fatto, molti lo stanno facendo ancora. Il Movimento 5 Stelle dopo il 7 maggio che è venuto Don Ciotti, il 10 abbiamo depositato la nostra proposta di legge che andasse verso il 416 terra e la sua modifica.